anno domini gioco della editrice giochi del 1995 in questo video spiegheremo solo il contenuto della scatola per i collezionisti e soltanto in modo non puntuale le istruzioni scatola superiore scatola inferiore e il sottovuoto in plastica rossa una plancia che rappresenta l'europa al periodo medievale 20 cattedrali sei dadi rossi e sei dadi blu le istruzioni quattro serie di castelli di quattro colori diversi 60 carte una serie di monete fustellate sulla plancia i territori vengono identificati da dei numeri uno rosso e uno blu questo servirà più avanti scegliendo due dadi e per esempio in questo caso il 44 e il 44 saranno le fiandre quindi col dado rosso e col dado blu si determina un territorio a caso si inizia il gioco distribuendo le carte finché non viene fuori la carta del papa e il giocatore che ha preso la carta del papa da quel momento diventa il papa e le altre carte vengono raccolte per giocare successivamente il papa inizia a scegliere uno dei quattro colori dei castelli e si doterà di 80 castelli e poi in seguito anche tutti gli altri giocatori tirando un dado rosso un dado blu si determinerà il territorio e verranno ogni territorio verrà dotato di una cattedrale finché non si esauriscono le cattedrali e poi successivamente verranno utilizzati per gli altri territori senza cattedrali i castelli questo punto si può iniziare il gioco il gioco si le fasi di gioco si dividono in due una fase amministrativa dove i giocatori distribuiscono prendono il denaro moltiplicando il numero delle cattedrali per il numero dei territori e per dieci quindi inizierà una fase militare con la quale il giocatore potrà consultare la tabella degli eventi casuali costruire nuovi castelli se abbastanza soldi e attaccare territori nemici quando il turno di un giocatore può determinare tre attacchi per ogni proprio turno e gli attacchi avvengono così il giocatore della provenza che attacca avrà che a tre castelli utilizzerà tre dadi il regno d'italia che ha due castelli più la cattedrale che era stata distribuita all'inizio avrà due dadi con due castelli al lancio vengono eliminati tanti castelli quanti sono i numeri 6 che vengono fatti dai dadi in questo caso c'è un 6 e qui ci sono due 4 però con le carte che abbiamo visto prima ancora non abbiamo distribuito si possono potenziare i punti quindi se un giocatore come questo come il l'attaccante a questa carta può a due punti attacco in più per ogni tiro quindi il 4 diventerà un 6 6 e 3 col 3 non raggiunge il 6 e quindi non può tirar via un castello qui con questi 24 può tirar via due castelli perché sono diventati più due punti 6 in questo caso non ha il difensore non ha carte e con un 6 può eliminare un castello e da parte del dell'attaccante alla fine tirando via i due castelli rimane libera la lo stato e quindi il l'attaccante vince il territorio le cattedrali che sono state distribuite all'inizio rimangono sempre sul territorio praticamente non sono di nessuno e l'obiettivo del gioco è quello di conquistare otto territori con otto cattedrali e alla fine di ogni turno se un giocatore ha conquistato almeno un territorio prende una delle carte durante il turno di un giocatore può fare quindi tre attacchi può anche fare un provare a tirare i dadi due dadi per determinare un evento di quelli elencati in alto sulla 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 plancia oppure può costruire castelli mettendo vini per ogni castello se un territorio rimane libero in quanto sia attaccante che difensore riescono a eliminare tutti i castelli chi è di turno può costruire su quel territorio un castello e quindi invaderlo le carte come abbiamo detto sono 60 ogni carta può essere presa dopo il proprio turno dopo aver conquistato almeno un territorio e sono relative a punti attacco punti difesa e si possono conservare oppure sono subito da scartare oppure a denaro quindi acquisizione di ricevere 500 fiorini per esempio come questa anno domini scatola del 1995 della editrice giocheri iscrivetevi grazie ciao 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 ciao